Ieri è una tappa molto impegnativa, però abbiamo avuto la fortuna di non prendere l'acqua e ci siamo divertiti a salire questo mitico monte, appunto come il monte dello Zoncolamp. Puro divertimento con tantissimi amici e quindi è stata una giornata indimenticabile. Oggi lo sarà altrettanto perché il tempo ci sta ancora per ora dando una mano, incrociamo le dita e speriamo che oggi ci possa aiutare anche oggi per arrivare in perfetta tranquillità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.